Dovete sapere che io ogni mattina alle 10 e mezza avevo appuntamento con mio padre nel suo ufficio per bere il tè e portare tutta una serie di problemi, lo chiamavamo ufficio risoluzione problemi, no? Fa succede questo, 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 cosa devo fare, come devo fare? E lui mi rispondeva e io ascoltavo, memorizzavo. Finché un bel giorno fa succede questo, cosa devo fare? E mi ha risposto con una domanda e ho capito che quello è stato il giorno del passaggio. E tu come faresti?